Non siamo qua a protestare, attenzione. Siamo qua a difendere i nostri diritti, non a protestare. Nessuno si è fatto vivo, non avete risposte da nessuno? No, no, abbiamo avuto dei bei riscontri. Stamattina abbiamo ricevuto il vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, il signor Versace. Ieri abbiamo ricevuto, ci sono venuti a trovare alcuni sindaci, circa una decina di sindaci della piana di Gioia Tauro e ci stiamo muovendo. Ma le risposte non sono i sindaci, le risposte è la comunità europea. Le risposte sono la comunità europea, certo, però per fare una casa si parte dalle fondazioni. Quindi i sindaci erano presenti ieri? È normale, prima si devono muovere le autorità locali e piano piano si salgono i gradini. Non è che, come si dice, un bambino ci mette 20 anni a crescere per diventare adulto. Le cose dalla sera alla mattina non le possiamo sbrigare. Bisogna aspettare i tempi burocratici, sperando che non siano lunghi e non debbano essere lunghi, se no altrimenti ci muoviamo diversamente e li facciamo accelerare. Ancora restate qui per tanto? Ma non lo sappiamo quanto stiamo, la voglia è di stare anche un mese, non abbiamo problemi. Tanto siamo in mezzo a una strada, diciamo, come lavoro e come attività, siamo tutti in mezzo a una strada. E in mezzo a una strada stiamo. Noi facciamo una manifestazione pacifica, tranquilla, perché non vogliamo dare fastidio a nessuno. Perché ogni cittadino è padrone della sua persona e se la gestisce come vuole la sua persona. Non possiamo obbligare nessuno che deve venire qua a manifestare insieme a noi se non ha la voglia. Come non invitiamo nessun politico a venire qua se non ha la voglia. Chi ha voglia di ascoltarci e chi ha voglia di manifestare insieme a noi, noi siamo qua. Il problema anche nella nostra regione è che da qualche mese ormai si è sviluppata la peste suina. Quindi anche gli allevatori hanno gli allevamenti chiusi a causa della peste suina, scusate se sono ripetitivo, e logicamente sono delle aziende in ginocchio dove non è stato preso nessun provvedimento ad oggi. Quindi quante famiglie ci sono ferme di imprenditori del settore e di operai del settore? Quindi anche l'importazione a livello di agricoltura viene incentivata dalla comunità europea e la nostra produzione rimane sugli alberi. Qui intorno possiamo vedere delle piantagioni di agrumi con gli agrumi sugli alberi. Però noi vediamo entrare camion stracarichi di frutta che arrivano dall'Europa e i nostri rimangono sugli alberi. Perché? Perché tutto questo quando noi abbiamo il prodotto a chilometro zero? Cioè ce l'abbiamo in casa e lo facciamo arrivare da fuori? Oppure in Sicilia vediamo arrivare delle navi cariche di fresco, quindi ortaggi, verdure, che arrivano dalla Tunisia. Perché? Perché tutto questo è concesso? Quando noi possiamo produrre nelle nostre terre con le nostre aziende e con i nostri operai, dove possiamo dare da mangiare a centinaia di operai, famiglie e tutto un indotto poi commerciale che si sviluppa in tutto il territorio.